Prego, prego allora. Ah, sull'ordine dei lavori, prego. Pensavo volessi intervenire, sull'ordine dei lavori. Prego. L'ordine dei lavori, questo l'ho già sollevato anche in maniera informale all'ufficio di presidenza. Perché ho ritenuto, anche mettendomi nelle vesti degli auditi, che non è possibile oggi fare un'audizione su un testo che di fatto poi verrà modificato nel momento in cui gli emendamenti della Giunta saranno approvati, perché saranno approvati da questo Consiglio, oggi i nostri auditi stanno elaborando le loro osservazioni, che peraltro, ho già detto più volte, i tempi, e l'hanno detto anche gli ingegneri, i tempi per poter valutare una norma di 60 articoli, 90 pagine, così complessa, sono stati molto, molto brevi. In più, gli emendamenti sono arrivati a noi ieri pomeriggio, loro non hanno potuto visionarli. Noi oggi stiamo facendo un'audizione su una norma che ha avuto già una tempistica molto ridotta per poter essere valutata. In più, stiamo parlando di una norma dove alcune parti sono state anche radicalmente modificate. Noi stessi, noi stessi, Assessore, abbiamo avuto ieri il tempo, tra ieri e oggi, di valutare, anche in maniera molto veloce, anche non approfondita, e me ne faccio carico del fatto di non essere stata in grado di poter leggere tutti gli emendamenti che ci sono arrivati ieri pomeriggio, anche i nostri auditi non ce l'hanno. Pertanto, io così mi sento di portare all'attenzione del Presidente questo problema, perché sarebbe molto importante, anzi è molto importante, che tutti i portatori di interesse possano dire la loro su questa norma e anche arrivare a una definizione magari anche condivisa, quanto più condivisa possibile, perché io ritengo che questa sia una norma importante, lo sa l'Assessore, ne abbiamo parlato più volte, e non avere a disposizione tutte le informazioni per poter fare le valutazioni del caso, io temo che non sia utile per nessuno, nemmeno per la Giunta che va a chiedere l'approvazione di un DDL così importante. Sì, Presidente, ritorno sull'ordine dei lavori e ribadisco quello che avevo chiesto più volte e che oggi si è palesato. Le audizioni a noi servono per capire quali sono le criticità o anche le sottoscrizioni da parte dei portatori di interesse. E avevo fatto presente che fosse indispensabile avere un lasso di tempo tra le audizioni e la discussione del provvedimento in Commissione proprio per raccogliere le loro osservazioni. L'ho fatto anche ieri in Capigruppo, dicendo che non era pensabile fare la discussione di questo provvedimento in aula la settimana prossima. Ma siamo riusciti infatti a concordare con i Capigruppo di dispostare il provvedimento in aula, ma che non era pensabile di fare, di iniziare la discussione del provvedimento domani in Commissione. Anche perché la discussione in Commissione è fondamentale, forse anche più della discussione in aula. Perché sappiamo che la discussione in Commissione può essere approfondita, si possono raccogliere tutte le sollecitazioni che vengono dal Consiglio. Quindi, Presidente, quando io ieri ho inoltrato una mail chiedendo un ufficio di presidenza urgente a cui non ho avuto risposta da lei, era questo che volevo chiederle. di andare direttamente al 19, lasciando la disponibilità agli auditi di mandare le loro note scritte, magari anche qualche suggerimento puntuale di qualche emendamento, come oggi è stato evidenziato. E peraltro mi stupisco che ci siano arrivati, siano giunti gli emendamenti della Giunta ieri nel pomeriggio, l'ho detto anche prima, perché oggi noi avremmo dovuto sospendere alle 11 anche questa audizione, recepire gli emendamenti della Giunta, perché se sono alcuni soppressivi o altri comunque migliorativi, è vanificata l'audizione di oggi. Quindi, al momento, la mia proposta è quella di sospendere oggi, attendere di alcuni auditi le loro osservazioni, dare il tempo ai consiglieri di maggioranza e minoranza di valutare le modifiche che sono state apportate da parte della Giunta, e riconvocarci, se il tempo è stato sufficiente, il 19. Dopodiché si andrà in aula il giorno che noi avremo chiuso il provvedimento. Questa è la mia proposta. Allora, io prendo atto, non ho imposto, ho detto che mi metto a disposizione della discussione dell'Aula. Lei sull'ordine dei lavori ha chiesto questo, farò una verità. ...altra parte, e così credo si sgombra il campo da ogni illazione. Deve fare un'altra domanda? Sull'ordine dei lavori chiedo al Presidente una convocazione urgente dell'Ufficio di Presidenza, soprattutto per riuscire ad arrivare a una condivisione del percorso procedurale. Mi dispiace che ci siano state queste tensioni. Io sinceramente, ma lo dico proprio in maniera molto semplice, ho fatto di tutto, Presidente, perché non ci fossero queste tensioni tra i consiglieri, la Giunta, e che non ci trovassimo in questa situazione in cui ci troviamo adesso. Così, lo dico così, però il Presidente accolga questa... Siamo qui, dice l'altro Vicepresidente, e possiamo fare un... Io chiedo di non decidere in questo momento le due date del 18 e il 19, ma di arrivare con un Ufficio di Presidenza. Se poi, a maggioranza, voi decidete che quelle sono le due giornate, lo farete e lo decidete voi. Nel nostro caso, abbiamo pensato, proponiamo soltanto la data del 19, perché quella settimana è una settimana particolarmente densa. Ci sono, non so, forse a lei non è arrivato l'ordine del giorno, della settimana prossima dell'Aula. C'è un DDL molto importante, che è quello della legge elettorale, dove i gruppi consigliari dovranno portare degli emendamenti. Noi vorremmo anche essere propositivi sul DDL 16, almeno per quello che riguarda me, io voglio essere propositiva sul DDL 16. Non ho nessuna intenzione, e questo l'assessore lo sa benissimo, di fare un braccio di ferro su questo provvedimento, perché penso che è lo strumento del governo del territorio per tutti quanti, sia per quello che riguarda le amministrazioni, sia per quello che riguarda i tecnici e i portatori di interesse. E quindi vanno ascoltati tutti e recepiti in maniera organica, perché anch'io condivido con l'assessore che dobbiamo arrivare alla conclusione di questo provvedimento per recepire il codice degli appalti, perché i fondi del PNRR li abbiamo a disposizione per un tempo limitato, è vero, peccato sarebbe lasciarli chiusi nel cassetto, ma peccato anche sarebbe utilizzarli male, assessore. Per cui certe volte io penso che è meglio non spenderli piuttosto che spenderli male. E allora, siccome per spenderli bene dobbiamo creare delle norme di qualità, senza che nessun professionista magari poi si ritrovi col cerino in mano, magari a dover asseverare determinate cose, perché noi non abbiamo studiato bene, ma ovviamente magari non è questo il caso, ma assessore, noi che abbiamo fatto la professione per tanti anni, sappiamo benissimo che cosa vuol dire asseverare e prenderci le responsabilità penali e civili di alcune situazioni, perché delle norme non sono state scritte correttamente, a questo punto, a maggior ragione, dobbiamo essere molto attenti rispetto a quello che ci è stato pronunciato. Per cui, anche se dovesse essere una settimana dopo la convocazione, non dobbiamo avere paura della fretta, perché è la fretta, come dice il detto, è la mamma di tutte, adesso mi ricordo il detto, come funziona. È cattiva consigliera. È cattiva... Bene. L'ufficio di presidenza è convocato subito dopo, visto che sono presenti. Ecco, grazie Presidente, io chiedevo questo. Però, come ho potuto notare, per la data del 18-19 ho lasciato, come faccio di solito, il tentativo di avere la massima condivisione, può essere anche solo il 19, non ci sono problemi.